Il bilancio del Comune di Pescara approda in Consiglio Comunale in quest'Aula, precisamente martedì 21 dicembre. Il centro-sinistra, consigliere Gian Pietro, ha delle perplessità, delle preoccupazioni su questo bilancio. Cosa non vi convince in particolare? Questo è un bilancio che si arrende di fronte alle divisioni di questa maggioranza, perché anziché progettare il futuro della città, si limita a indicare quali sono i piani del PNRR senza scendere nel dettaglio e senza indicare quali sono per raggiunte le proprietà. Con questo documento, che è fatto dal DUP, cioè dal documento di programmazione e dal bilancio, in realtà Pescara si candida a perdere la più grande occasione di crescita che non ne ricapiterà mai più in questa generazione. I numeri del bilancio sono molto preoccupanti, in alcuni casi c'è anche qualche provocazione, perché ad esempio per tantissimi mesi i pescheresi sono stati senza acqua nelle case, il Comune aveva promesso finanziamenti per incentivare i pescheresi, anzi sostenerli nel comprare queste autoclavi, ebbene ha messo 5.000 euro per contribuire a tutti i pescheresi. È una provocazione, davvero è una provocazione. Un altro elemento di forte preoccupazione è che nel cinquantennale della morte di Flaiano il Comune si appressa a tagliare in maniera drastica i finanziamenti al Primo Flaiano, che crediamo siano invece una delle più grandi occasioni culturali sia di Pescara che di Abruzzo. In generale questo è un bilancio che ci preoccupa davvero molto perché non guarda al futuro e dimostra soltanto che questa maggioranza ormai è chiusa nelle guerre intestine e ha perso ogni contatto con i reali bisogni di Pescara. In un momento così particolare sul sociale invece secondo voi è stato fatto quello che bisognava fare? Assolutamente no, perché noi abbiamo chiesto lo scorso anno di fare anche una verifica puntuale su quello che in realtà oggi il fabbisogno della città richiede. Questa verifica non è stata fatta, purtroppo tutti gli impegni assunti da sindaco, quasi tutti gli impegni assunti da sindaco con la città, con le minoranze non sono state mantenute. C'è un documento scritto da sindaco prima del bilancio dello scorso anno e gran parte di quegli impegni non è stata rispettata. Tra l'altro questo bilancio, e dimostra questo anche la paura di questa amministrazione, viene scritto senza alcun confronto per parti sociali. Quindi in realtà non sappiamo con chi siamo confrontati se non con gli uffici che sono ormai carichi di input, non sono neanche a quali bandi dover partecipare perché nessuno ha indicato da parte della maggioranza quali sono le priorità della città e quindi quando ci saranno i tantissimi bandi del PNRR questo comune si cannerà forse a tutto rischiando di continuare a perdere tutto come finora è successo.